È stato troppo erudito, infatti facilmente alle 6 da papà ti si è fatto scavare un'altra tria gli ultimi giorni dove riga? Un bunga bunga fosse ai tempi simbio ancora non aveva pensato ma voi di certo la strada per il Mabemba andate già in parla A cincina il Mabemba, bevi, bevi Come il Michael Craxon Il Michael Craxon si è sempre pronto a festeggiare Carburante per il cervello poco Tra tutti i locali della riviera i miei li hanno potevati trovare Il Loco Loco a caccia pente di Ancona Il Juana, statana, abitualmente sul conto No, abilmente, e il Juana 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 In fondo troppo presto all'OSAT è tornato così qualche copia Anche per lui avete assaggiato Il giorno dopo il mare avete voluto navigare E un pedalò avete preso per un largo poter ruotare Ma il cellulare ha iniziato a squillare Per Dindirindina Ora tu ricordi la canzoncina In fondo al mar In fondo al mar Cantala di noi In fondo al mar In fondo al mar E poi non lascia Sta meglio tanto le parole In fondo al mar in fondo al mar Si può stare A un'altra In fondo al mar E il Massimo Dove? Dov'è? E dove? E dove? E dove? Dai Pesci su paperame! Pesci su paperame! Dove? E' il primo! Qua! Ecco quel caso! Vorreste andar giù la terra! Tu sai che casa la tua vita è lì! E' lì! Se vuoi che riguarda un sisto... Masso! Non prenderci pure! Non sentiamo! Non sentiamo! Vai avanti! Quinta! In fondo al lì! In fondo al lì! In fondo al lì! In fondo al lì! Occi cucina! In frittasera! E non si rischia! Vabbè andiamo avanti dai! E ora il gran stile! Apriamo il capitolo su mola! Poi è sempre stata una vera sciocchiazzuola! E mi proviene a far bere! Nei vesti non ho capito! A tre anni evi piccino ma dovuto traslocare! Ponte casa le buone maniere iniziava ad imparare! La sabre da lì preferiva fuggire! Eppure lui non la poteva seguersi! Ma c'è sempre spavaglia! Questa è la stessa peggiore! Manca lo stacolo! Bevilo, bevilo, bevilo! Chiara? 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 Chiara! Chiara? Chiara! Chiara? Chiara! Chiara? E lui? Chiara! Con la rullà! Ah non era scusa! E loro si apriene! Bravolo! C'è la mano di un po' di quella di noi! almeno qualcuno che beve conoscere e soffrire le notizioni nei cartoni animati e ogni mattina ne vedi a compiere la piccola Flora è la tua preferita come un Robinson desideravi la tua vita ma a Savogna per lungo tempo saresti dovuto rimanere anche perché gli sarebbe arrivato tutto il sapere senza niente da fare le elementari non riuscivi a stare ed anche le maestre ti dovevano gridare i funghetti sono stati sempre una vera passione anche nel cortile della scuola che intami una missione in realtà eri proprio un bimbo volente agile e scattante come un funghetto alla media la voglia di studiare era proprio le minacce su di te avevano un fare provocante una materia facendo pratica e apprezzo forse in realtà è possibile il mondo davanti a te si è steso le urade del giotto si impietrivano così nei calcoli le insufficienze ti occupavano però forse solo in tal modo avresti capito di non essere proprio uno scimunito fare il contadino era il tuo sogno più grande così all'istituto tecnico agrario si scrivesse senza fare tante domande il professore di chimico bevi 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 guarda che quando è finito è finito ma non ho bevuto niente e bevilo 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 non ho avuto niente no bisogna tirar via la carta quella bianca si può stare qua fino a domani a secco noi no 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 non l'avevi imparato tu sempre nulla non abbiamo fatto niente convinto e dichiarato è ora di svelare tiraggia con la galanda ti piaceva babbare ora ora babbare babbare vedi ah vedi vedi quella chiaretta uuuuuh tira su capri sempre ore ore da piantone dove dottore dottore nel buso del cul vaffan cul vaffan cul vaffan cul vaffan cul dai è ancora un'ora dove sono? dove sono? dove sono? vaffan cul vaffan cul vaffan cul ma dove sei? ma va bene per il passaggio ma per il creatione sempre di incadici Gabriele che ore sono Gabriele che ore sono? bevi bevi tira via la carta Chiara tira via la carta bianca del carburante o una b-fuel e a zoonotecnica zoonotecnia bevi vai vai seminava sempre l'errore stracalla ooooh finalmente adesso però ti ho basta ne sto lasciando il melo seminava sempre il terrore che con usage ven fu ti faceva capire che l'interrogazione era la sua migliore adesso devi andare però il campionato tre corogna università no no scusa a che punto è adesso? è lungo a bologna la maturità miracolosamente riuscì a pigliare d'altronde per il 72 basta pagare dopo il diploma fece una scelta importante volendosi tenere dal lavoro distante ed essendo anche di gnocchi interestia genuamente pensò faccia ancora la scelta a grazia si casseggia in materia prima ma non volevi restare molto più a sud volevi andare così a scelta vi è andata tra le città con le tre t Torino torri, tortellini e tette sono stati per te il motivo per venire qui che che tu ne pensi che 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 cosa? bevi bevi non per Bologna bevi e grida non guardare tua mamma che prima mi chiedeva del bianco perché tu pensi che Bologna sia in Italia 100% non siamo in perroia che è andata poi un po' male tuttavia sono tortellini e torri solo tortellini e torri e di tette si è rimasto ben sprovvisto tra aperitivi e feste nella casa di Viale Silvani eppure con qualche lavoretto che gli capitava tra le mani ricordiamo che a palazzetto andavi e che la fortitudo amavi ma era meglio che studiassi o che virtussino simpatizzassi te ne sei uscito in fisica con un nuovo ugualmente tant'è che sembravi davvero quasi un bravo studente poi ideasti la tecnica infallibile di studiare a tratti certo che però con entomologia hai dato di matti ricorderò per sempre questa scena il giorno prima dell'orale non a farti domande no bevi perché ti ha fatto le domande bevi